Sossano, una 75enne alla guida di una Fiat Punto, è finita in un canale capovolgendosi. È successo in località Belvedere, lungo la provinciale 8. Notata la scena da alcuni passanti, l'auto è stata trattenuta dall'affondare con funi assicurate alla balausta di un ponticello. Un'azione providenziale che ha permesso l'arrivo dei pompieri che hanno liberato e messo in salvo l'anziana signora.